... Hai capito le istruzioni della prof? Credo di sì. Quindi, che dobbiamo fare esattamente? Martedì, mentre saremo in laboratorio, dobbiamo replicare i personaggi che avevamo già creato. Poi, inseriamo l'ambiente scenico. E quelli del suono? Loro dovranno aspettare un attimo, perché dobbiamo prima fare la prova con i dialoghi. Come mai? Beh, dobbiamo verificare il timing, sai è davvero molto importante. Ho capito. Spero che i dialoghi in inglese siano pronti settimana prossima. Ah, devo essere in inglese per forza. Scherzi, le viene un colpo alla prof se non hanno tutto pronto per giovedì. Immagino la scena. Sarà tutto pronto. Ne sono sicura, anche perché la scadenza è metà a maggio. Speriamo. Vero che dopo ci sono gli esami di certificazione. Infatti. Ho la lezione sta per cominciare. Ne riparliamo dopo. Mi aiuterai a montare tutte le scene? Certo. Ora silenzio. La lezione sta per cominciare. Ora silenzio. Bis trends! Gotcha. Chau. Mi aiuterai. Si viene la scena su Direktare. La scena su交te. No. Si viene la scena sullä. Ma sora. ppo YouTube. Ma sora. Si viene la scena sulle hydro. Ma sora. Ma sora.